Ed ora la musica, domani su questa rete è la serata finale del Festival di Castrocaro, giunto alla 63esima edizione che premia Voci Nuove. Laura Pintus. Si scaldano le voci, il Festival di Castrocaro dal 57 continua nella sua missione di scoprire talenti. L'edizione di quest'anno, condotta da Stefano De Martino, vede in finale otto giovanissimi appassionati di musica. Negli anni gli emergenti sono sempre più a fuoco, sono sempre più centrati e tutti hanno una particolare identità ben precisa, quindi ne vedremo delle belle. Molti personaggi entrati nella storia della musica e i primi passi li hanno mossi qui. Castrocaro, trampolino di lancio per Gigliola Cinquetti, Laura Pasini, Zucchero Fornaciali, solo per citarne alcuni. A valutare i finalisti, una giuria composta da quattro artisti, fra cui Bugo e Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari, che interagiranno con i giovani sordienti. Vorrei un attimo consigliarli di tenere duro, di essere forti, perché è solo l'inizio di un percorso lungo, che richiederà quasi sempre di ripartire. E quindi quello lì è una cosa che mi piacerebbe molto trasmetterli. Il Tg2 torna alle 18.15, ora la linea va alle nostre rubriche. Grazie.